Rispondendo ad una interrogazione dell'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini, la Commissione europea ha comunicato che ha avviato una procedura d'indagine e che sta valutando ora le risposte fornite dalle autorità italiane per verificare la situazione ambientale e sanitaria provocata dalle estrazioni petrolifere che si stanno effettuando in Val d'Agri, dove è ubicato il più grande giacimento su terraferma d'Europa. Nell'interrogazione Pedicini aveva evidenziato che l'area interessata è attraversata da un parco nazionale ed è ricca di sorgenti sotterranee e bacini idrici, che forniscono acqua potabile e irrigazione in Basilicata e Puglia. Analisi e studi, aveva denunciato l'euro parlamentare, dimostrano il forte inquinamento sia delle falde acquifere che degli invasi idrici, con la presenza di metalli pesanti in concentrazione superiore ai limiti europei nonché un'anomala distribuzione di tumori e malattie cardiorespiratorie nell'area. La procedura d'indagine avviata dalla Commissione europea a seguito delle numerose denunce del Movimento 5 Stelle ha sottolineato Pedicini è un importante risultato per le popolazioni che risiedono nell'area interessata dalle estrazioni petrolifere e per i cittadini della Puglia e della Basilicata che ogni giorno utilizzano l'acqua del lago del Pertusillo per uso potabile. Con questa indagine, ha concluso il portavoce del Movimento 5 Stelle, le autorità italiane dovranno spiegare con estrema chiarezza e precisione qual è l'impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica che viene provocato dalle estrazioni petrolifere che da circa 20 anni vengono effettuate in Basilicata. Nessuno potrà continuare a sottovalutare l'inquinamento dell'acqua e dell'aria con gravi ripercussioni sull'agricoltura e sul turismo locale e sul drammatico aumento delle malattie tumorali.